Per la cena di stasera con i miei amici preparerò un drink, il Moscow Mule e vi fornirò la ricetta completa, dettagliata, precisa, senza errori e buona serata a tutti. Allora gli ingredienti per una persona sono 4,5 centilitri di vodka, un centilitro di succo di lime, 12 cl di ginger beer, noi siamo in tre che beviamo quindi moltiplichiamo tutto per sei. Ecco qua i nostri lime e procediamo a spremerli con il colino, facciamo il succo, è richiesto esplicitamente succo di lime. Dalla spremitura sono risultati esattamente 100 ml di lime e da questo dato faremo tutta la proporzione per il Moscow Mule. Se ne escono 6, 7, 8, non lo so, lo scopriremo. Dimmi tutti che sta per arrivare. Eccola la protagonista. La matematica non è un'opinione, quindi con la vodka ci fermiamo a 400 ml. Abbondante. E' bianco come l'acqua, la vodka, H2O, però quella che stiamo versando è vodka. Butta giù il succo di lime. Arrivano i ginger. Ginger beer. Doveroso dire di bere responsabilmente, non quando vi mettete al volante, non quando dovete mandare dei messaggi magari particolari. Iniziamo col ghiaccio. Ed ecco il risultato. Assaggiamo. Giù come l'acqua. Bevanda eccezionale, pericolosa. Se avete il responsabile, state attenti, non guidate. Buona serata a tutti.